Buongiorno a tutti e a tutte, sono Noemi Mudadu. Oggi ci troviamo nella scuola primaria di Muros con lo scenografo Fabio Logo. Buongiorno Fabio Logo. Buongiorno, ciao. Insieme ai nostri compagni di prima e seconda ha costruito la scenografia per il nostro studio. Quali materiali avete utilizzato? Abbiamo utilizzato tutti quei materiali che in genere voi buttate via e non usiamo più, quindi vecchie scatole, vecchi giornali, delle bottiglie di plastica. Nel tuo lavoro il reciclo è molto importante. Non è soltanto importante, è la cosa più importante. Grazie Fabio, per Muros è tutto, alla prossima. Ciao. Grazie. Grazie. Grazie.